Presidente buonasera saluti Presidente un vostro piccolo saluto al pubblico di Positano News che è un giornale locale grazie Devo farlo con la mascherina o senza? Anche senza perché siamo ben distanziati Allora saluto tutti i lettori e spettatori di Positano News e sono molto onorato questa sera per la prima volta nella veste di Presidente di essere ospite qui a Ravello con un concerto bellissimo in memoria di Astor Piazzolla e per una serata tanghera siamo tutti felici di partecipare in questa notte di mezza estate Noi come redazione vi lasciamo il buon lavoro e gli auguri per questa intraprendenza Grazie Grazie Grazie